Saranno una trentina i migranti salvati nei giorni scorsi a largo dalle coste della Libia e di Malta dalla nave CI4 in arrivo al porto di Ortona intorno alle 18 di oggi. Si tratta del decimo sbarco dirottato sul porto abruzzese dal febbraio 2023, quando la regione è stata coinvolta nelle complesse operazioni di accoglienza. L'organizzazione, più che collaudata con il commissario prefettizio Gianluca Braga, che prima in veste di vice prefetto ed oggi come responsabile amministrativo del comune, andrà a coordinare le operazioni con la supervisione del prefetto della Cioppa tra protezione civile e forze dell'ordine personale di soccorso. I medici dell'unità sanitaria di frontiera si occuperanno delle visite a bordo tenendo conto delle informazioni sommarie giunte dalla nave, che parlano di 31 persone di cui 13 minorenni se non accompagnati e perfino un bambino di appena un anno, provenienti da Libia, Etiopia, Eritrea, Chad, Sudan e Ghana. Due di questi sono da ricoverare in ospedale, ma ulteriori accertamenti verranno fatti al momento. Dal consueto tavolo tecnico ha definito anche il programma degli spostamenti. Dopo le visite il trasferimento a Tamarete e intorno alle 23 lo spostamento nei vari centri d'accoglienza presenti in Abruzzo.